Musica Ciao a tutti, oggi ci occupiamo di nuovo della pulizia della nostra casa e guardiamo nello specifico come si pulisce con un metodo naturale il lavello in acciaio della nostra cucina. Il lavandino in acciaio Inox è bellissimo, è un materiale indistruttibile, è luminoso, l'unica cosa è che naturalmente richiede un po' di manutenzione, per mantenerlo bello e brillante bisogna stargli un po' dietro, pulirlo costantemente, ogni giorno quando si pulisce il lavello va asciugato perfettamente. Oggi facciamo una pulizia un pochino più profonda comunque con un metodo molto naturale, bicarbonato di sodio, che andiamo a cospargere su tutto il lavandino e soprattutto vedete intorno ai rubinetti, nel foro di scarico, nei punti dove magari le incrostazioni di calcare sono un pochino più resistenti. Ci aiutiamo con uno spazzolino vecchio da denti che è uno strumento indispensabile per questo tipo di pulizie. È straordinario lo spazzolino perché arriva nei punti più nascosti, vedete io ci faccio anche il chiusino, il tappo dell'acqua, poi naturalmente ci vado a strofinare bene, abbiamo visto il foro di scarico, naturalmente tutta l'attaccatura del rubinetto, in questo modo l'azione delicata ma comunque leggermente abrasiva del bicarbonato di sodio sarà un pochino più potente appunto grazie allo strofinamento che facciamo con lo spazzolino. Poi naturalmente con la spugna andiamo a distribuire bene su tutto il lavandino il bicarbonato, lo facciamo agire un minuto o due e poi andiamo a risciacquare bene, vi assicuro avrà già portato via uno strato di incrostazioni incredibile. Sciacquato bene il lavandino, mi raccomando dappertutto perché poi il bicarbonato si nasconde bene tra le giunture magari del rubinetto, andiamo a lucidare l'acciaio passandolo con l'aceto bianco. L'aceto bianco a questo punto è straordinario perché darà proprio brillantezza, sgrasserà completamente il lavello, lo renderà brillante. Io vi assicuro che facendo in questo modo, usando questi due ingredienti così naturali come il bicarbonato e l'aceto, voi andrete quasi ad eliminare del tutto gli anticalcari industriali che sicuramente ogni tanto vanno usati, non dico di no, ma fate attenzione perché possono danneggiare magari l'acciaio, a lungo andare lo rendono meno brillante, mentre usando questi questi accorgimenti, questi ritrovati così naturali vedrete il vostro lavandino sarà sempre bello nel tempo, lucidissimo e poi vi accorgerete anche di come spariscono completamente facendo questo trattamento i cattivi odori che possono risalire dagli scarichi del lavandino. Vedrete come gli scarichi proprio dell'acqua saranno quasi più liberi, come scorrerà giù bene l'acqua perché anche lo stesso bicarbonato sciogliendo pulisce le tubature del nostro lavandino, vi assicuro un metodo straordinario, l'ultimo passaggio avete visto va asciugato bene con un panno di cotone, a questo punto avrete un lavandino come nuovo brillantissimo e pulitissimo, spero che questo video vi sia utile, arrivederci al prossimo!